Ci avviciniamo a grandi passi al momento più atteso della comunità potentina San Gerardo e Santo Patrono, la storica Parata dei Turchi, evento le cui celebrazioni cittadine inizieranno il 26 maggio con la Potenza Folk Festival, proseguiranno il 29 con la Grande Parata dei Turchi, fino ad arrivare al 30 di maggio per la solenne celebrazione in cattedrale e la processione religiosa. Questa riunione ha dichiarato il prefetto di Potenza Michele Campanaro, nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, all'obiettivo di fissare le condizioni perché questo tradizionale evento si svolga in una cornice di massima sicurezza per tutti. Per l'occasione sono stati presentati i piani di sicurezza messi a punto dall'amministrazione comunale e dalle associazioni dei portatori del Santo e della Iaccara. Una particolare attenzione è stata data alla piazza, dove si svolgerà l'accensione della Grande Torcia a causa di una capienza ridotta per la presenza di installazioni cantieristiche. Le misure di sicurezza includeranno limitazioni di accesso nella piazza, rafforzamento dei controlli di sicurezza ai varchi e installazione di maxi schermi lungo il percorso della parata. Il prefetto Campanaro ha infine sottolineato l'importanza della collaborazione tra tutte le componenti istituzionali per garantire il giusto equilibrio tra tutela della sicurezza e preservazione delle tradizioni culturali e religiose. Sono certo che anche quest'anno quel punto di equilibrio trovato consentirà a tutti di godersi in piena sicurezza una festa tanto sentita per tradizione e sentimento religioso. Nel corso dei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sui canali social e istituzionali riguardo l'intero programma degli eventi e le misure organizzative previste dal Comune di Potenza.